In questa domenica noi celebreremo il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Siamo introdotti nella lettura del sesto capitolo del Vangelo di Giovanni dalla lettura di un passo celeberrimo del libro del Deuteronomio che parla di un pane non conosciuto, di un cibo che è una sorpresa, di un cibo che è qualcosa che il popolo deve scoprire durante un cammino nel deserto. Ricordati, dice il testo di Deuteronomio 8, di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarantini nel deserto, per umiliarti, metterti alla prova, sapere quello che avevi nel cuore e ti ha fatto provare, dice più avanti, la fame per nutrirti con manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto. Ecco, il cibo che fa scoprire il rapporto con Dio, perché dice ancora più avanti questa celeberrima frase per capire che l'uomo non vive soltanto di pane ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Vivere della parola che il Signore dice all'uomo, quello che Gesù citerà nel combattimento con il maligno, nelle tentazioni del deserto, quando è all'inizio della sua missione. Ecco, questo pane è un pane sconosciuto, un pane incomprensibile. Infatti su questo cibo sorprendente e questa bevanda peraltro non comprensibile c'è la discussione in cui è fotografata la sequenza del testo che proclameremo nella liturgia del Corpus Domini per l'appunto. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Ma che cos'è questa cosa di cui parla? Lui ha appena detto se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. È chiaro che se ci mettiamo nella condizione di questi signori che stanno ascoltando Gesù parlare è evidente che questa è un'espressione difficile da assimilare, difficile da capire, difficile da intendere immediatamente. Infatti più avanti loro diranno questo linguaggio è duro, ma chi può intenderlo? È vero. C'è qualcosa che per noi è da scoprire. Come è da scoprire quel rapporto con Dio? Come è da scoprire quella manna, quel cibo che Dio sa dare, il cibo che scende dal cielo, che non è il cibo che sorge dalla terra, che era il primo cibo che l'uomo riceve in Genesi 1 dal piano di Dio che lo crea come uno che si nutre dell'erba campestre, si nutre di ciò che la terra produce. Quello è un cibo, ma ce n'è un altro. C'è un passaggio, c'è un salto di qualità che tutti noi dobbiamo sperimentare e fare. Quello quando il vero nutrimento della nostra vita è secondo l'ordinarietà, secondo ciò che è a nostra disposizione, frutto delle nostre forze, quello che ci guadagniamo, quello che qualcuno ci regala, quello che altri guadagnano per noi, sia come sia, è quello che invece ci introduce nel rapporto con Dio. Il corpo del Signore è scoprire non solo il cibo, ma Dio stesso. Perché? Perché quando Gesù si presenta dicendo, io sono il pane vivo disceso dal cielo, molto più che del pane, sta parlando di se stesso, e il problema è capire chi è Cristo. Capire cioè chi è Dio. Questa è la manna che discende dal cielo, un'esperienza autentica secondo Dio e non secondo le nostre coordinate. E cioè è il momento in cui io inizio a scoprire che Dio è diverso da come io penso. Mille volte nelle scritture, e possiamo moltiplicare questo numero leggendo i Vangeli, ciò con cui abbiamo a che fare è una rivelazione inaudita di Dio, che non è secondo le nostre categorie. E il punto in questo momento, e ciò che noi celebriamo in questa festa, è che Dio si è manifestato nel suo figlio, discendendo dal cielo, ed è pane. Dio è pane. Non dobbiamo pensare tanto al problema del pane in quanto pane proprio, concreto, ma dobbiamo sapere che in ebraico la parola pane indica il cibo, il cibo di ogni tipo. Il problema è che è nutrimento. Qual è la realtà? Io sono davanti a Dio, normalmente portando in me tutto l'eco delle mie paure e tutta l'inerzia che mi spinge ad andare secondo le proiezioni delle mie delusioni. Io so che nella vita tutto si paga, io so che nella vita tutto si merita, io so che ogni boccone che la vita mi dà, io devo dimostrare che mi spetta. Forse lo devo anche strappare alle rivalità con gli altri. Come poter pensare diversamente di Dio? Questo cibo che uno non conosce e che solamente il cielo mi può rivelare, è che la mia vita non si sostiene sulle mie forze, ma sull'amore di Dio. Il mio vero cibo è il Signore Gesù Cristo, il quale è grazia, è dono, non è pretesa. Io penso naturalmente che Dio abbia appetito delle mie opere. Invece lui dice io sono il tuo cibo. Il Signore Gesù Cristo non è venuto per pretendere, ma per dare e noi tanto più accogliamo il suo dono, tanto più diventiamo generosi. Quanto più mangiamo di Lui, tanto più anche noi iniziamo a diventare cibo, che è il passaggio dalla vita infantile, la vita adulta. Nell'infanzia si pensa a se stessi, nella vita adulta si pensa agli altri. Nell'infanzia si è figli e si riceve, nella vita adulta si è padri e si nutre qualcuno. Cristo è il nostro nutrimento, perché Lui sta davanti a noi, totalmente donato per noi. Noi invece pensiamo a Dio costantemente come all'ennesimo esigente della nostra esperienza esistenziale. Tutto si vaga, anche l'amore di Dio sarà da pagare. Infatti normalmente abbiamo impostato il cristianesimo su una tematica etica, essere bravi o non essere bravi. No, qui si tratta di unirsi o non unirsi a Dio e quindi credere o non credere che Lui sia per noi. Non siamo noi il panino che Dio vuole mangiare perché ha sete, fame di espropriarci, come nel sottofondo della nostra mentalità noi portiamo. No, è Lui il nostro cibo. Lui è vera bevanda. Lui è per noi, completamente donato a nostro favore. È questa l'intima cifra del sacramento dell'Eucaristia, l'amore sconfinato, sconvolgente, scandaloso di Dio per noi.